Ripensando a questi ultimi tempi così burrascosi, così terrificanti, così pieni di ansia o anche solo di preoccupazione o a volte persino un po' di dubbio rispetto alla situazione che stiamo vivendo e alla questione del virus cinese che si sta diffondendo in modo abbastanza pronunciato in Italia subito dopo il capitolo appunto della provincia di Wuhan, è difficile non ricordarsi di quel trattato italo-cinese firmato proprio un anno fa, a marzo del 2019, all'interno del quale, tra le tante cose, compare questo passaggio. Le parti collaboreranno nello sviluppo della connettività infrastrutturale, compresi aspetti quali le modalità di finanziamento, interoperabilità e la logistica in settori di reciproco interesse quali strade, ferrovie, ponti, aviazione civile, porti, energia e telecomunicazioni. Ecco, questo trattato tra Cina e Italia potrebbe aver dato fastidio a qualcuno? Potrebbero gli americani essersi sentiti infastiditi? Questo non è in effetti un mistero, non è una domanda da mille dollari, visto che in effetti questa cosa è accaduta, visto che la stessa stampa ha sottolineato la rabbia degli americani e degli Stati Uniti nei confronti di questo trattato. È evidente che questo accenno alle telecomunicazioni faccia pensare al 5G, a questa tecnologia che Huawei cerca di gestire in modo autonomo e che quindi porta la Cina in una situazione di assoluta contrapposizione nei confronti degli Stati Uniti. Come non ricordare a questo punto come la figlia del presidente di Huawei, Meng Wanzoi, direttrice finanziaria dello stesso colosso telefonico cinese, sia stata arrestata il 1 dicembre 2018 a Vancouver dalla polizia canavese su mandato di cattura statunitense per violazione delle sanzioni americane all'Iran. Un capitolo questo ben poco, diciamo, trafficato, ben poco divulgato dai nostri media, dalla nostra cosiddetta informazione. Si tratta in realtà di un arresto estremamente imbarazzante per la Cina, effettuato proprio, tra l'altro, nelle stesse ore in cui Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si trovavano a discutere a proposito della guerra dei Dazi. Ecco, la Wanzoi, 47 anni, proprio in questi giorni è in attesa di venire estradata in America. Sullo sfondo di questa brutta storia c'è proprio questa guerra senza quartiere tra Stati Uniti e Huawei per il mercato del 5G, che vede come ultima mossa la proposta della Federal Communication Commission di vietare qualsiasi sovvenzione statale per questa nuova e molto discussa tecnologia a compagnie americane che si approvvigionino presso fornitori cinesi come appunto Huawei e ZTE. Ecco, alla luce di tutto questo, la domanda a questo punto non può che essere questa, anche se mi rendo conto che si tratti di una domanda estremamente complottista. Ha qualcosa a che fare? Il fatto che questo coronavirus si sia diffuso così pesantemente in Cina per poi passare direttamente in Italia con questo trattato italo-cinese e la questione del 5G?